Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video da me e da una pupi che sta sonnecchiando guardate quanto è bella, vorrei andare lì a sfugazzarmela tutta però preferisco lasciarla in pace perché altrimenti si mette qua sul tavolo, comincia a passare soprattutto, no no no, lasciamola lì tranquilla allora, come avrete letto dal titolo, oggi parliamo di profumi, parliamo di profumi low cost sapete che mi piace comunque tantissimo condividere con voi i miei acquistini profumosi low cost perché danno tanta soddisfazione, soprattutto quando si unisce un prezzo economico, un prezzo accessibile a tutti alla bontà, alla fragranza, ad una buona persistenza e quindi non vedevo l'ora di condividere con voi queste mie due nuove creature arrivate, insomma che adesso fanno parte della mia collezione sto parlando di due profumi di replay e il primo in questione è il tank allora, packaging esterno, molto molto carino, ho approfittato di una offerta d'acqua e sapone questi profumi sono spesso in offerta, infatti questo è un 50 ml che io ho pagato 9,90 euro per cui insomma qui il low cost ci sta tutto mi piace moltissimo anche la boccetta, molto molto carina sono molto grintosi questi profumi, sono molto grintose, molto moderne le confezioni, le boccette perché trovo che sia un qualcosa di non particolarmente classico vedete, è molto molto carina e questa è una creazione che diciamo che in realtà questi profumi non hanno nulla di originale perché comunque ricordano qualcosa di già creato, di già esistente questo però in particolare viene paragonato a Black Opium di Yves Saint Laurent allora, io ho avuto quel profumo in realtà l'ho odiato abbastanza in fretta non so dirvi il motivo perché poi comunque quel profumo ha al suo interno delle note che a me piacciono molto chi mi conosce, chi mi segue da tempo lo sa però non so perché in quel profumo io non le apprezzavo particolarmente non riuscivo più a sentirlo mio non mi sentivo più a mio agio quando lo indossavo per cui insomma quel profumo l'ho dato via quando ho letto che somigliava al Black Opium ho detto no, sicuramente è un profumo che non fa per me però poi sono andata a sentirlo e invece il profumo mi ha assolutamente catturata colpita e conquistata vi dico subito allora che questo è un profumo dolce, un vanigliato con all'interno anche fiori bianchi è una creazione del 2017 e abbiamo in testa l'arancia amara e la mela e le note di cuore sono il gelsomino, la rosa e la tuberosa quindi abbiamo un bel cuore opulento insomma abbiamo delle note che si caratterizzano per la loro opulenza la loro eleganza, quindi rosa, gelsomino e tuberosa e nella base abbiamo delle note a me molto care abbiamo la vaniglia, abbiamo la pralina che mi piace tanto il sandalo e il muschio allora dalle note notiamo che questo è un profumo sì dolce ma allo stesso tempo un floreale fruttato perché abbiamo anche le note di testa, di arancia amara e di mela devo dire la verità, l'arancia amara non si sente per niente però questa nota di mela acidula per niente dolce insieme all'arancia amara conferiscono maggiore personalità al profumo in apertura perché non abbiamo una classica apertura comunque qualcosa che non ci si aspetta da questo profumo perché è un esordio abbastanza dolce ma allo stesso tempo con una nota acida che tende un pochino a smorzare il tutto e poi si sviluppa questo cuore fiorito che secondo me, almeno sulla mia pelle tende a permanere per poco è un cuore che mi aspettavo un pochino più presente visto le note, insomma, viste le note il gelsomino, la rosa e la tuberosa però quello che prevale è praticamente il fondo con questa nota molto dolce leggermente gourmand quindi con la vaniglia con la pralina una pralina in cui prevale di più probabilmente la nota cioccolatosa ed è, diciamo, una nota quella della pralina o comunque insieme pralina e vaniglia che predominano sul profumo e che si mantengono, insomma, per tutta la durata è una dolcezza comunque non stucchevole io non sento assolutamente la somiglianza con il black opium è un profumo che mi piace molto perché non è eccessivo non è un profumo che posso utilizzare semplicemente per determinate occasioni ma lo posso utilizzare tutti i giorni anche di giorno e magari anche da indossare in un ambiente chiuso perché sicuramente non è un profumo che dà fastidio lo trovo molto giovanile un profumo grintoso che però, voglio dire, può essere indossato anche da una donna adulta vedi me, insomma lo indosso tranquillamente diciamo che l'idea, il concept è più indirizzato verso un pubblico giovane però il profumo, devo dire che è un profumo abbastanza democratico abbastanza versatile che può essere indossato, insomma, da qualunque tipo di donna non è il profumone che fa esclamare oddio, che cosa meravigliosa però, insomma, è un profumo molto carino con delle note interessanti che può accontentare i gusti di molti perché non lo categorizzerei né tra i gourmand né tra i fruttati né tra i fioriti comunque c'è un perfetto equilibrio tra le note molto carino non ha, diciamo, una grandissima proiezione non ha una elevatissima durata però stiamo su una durata abbastanza accettabile perché per quelle tre ore il profumo lo si sente particolarmente e se lo spruzziamo ovviamente anche sugli indumenti riusciamo a sentirlo ancora di più il prossimo profumo è uno dei tanti flanker appunto del Tank di Replay quindi sempre Replay, il Tank Custom mi piace moltissimo anche in questo caso il packaging esterno ma davvero tanto tanto lo trovo molto grintoso, molto giovane l'unica cosa che non mi piace di questo packaging è della boccetta che secondo me poco hanno a che vedere con il cuore della fragranza con la fragranza stessa mentre il primo con i suoi colori così caldi ambrati ricordano un po' la vaniglia ricordano l'ambra e comunque l'idea il concetto del profumo in questo caso secondo me assolutamente no ma neanche il nome perché mi fa pensare a qualcosa di molto sportivo immaginavo vedendo questa boccetta il nome del profumo qualcosa di più cuoiato con note non so di pino, di tabacco invece nulla di tutto questo allora questo è un 30 ml pagato anch'esso 9,90 euro sempre da acqua e sapone e stiamo su un mondo completamente diverso rispetto a ciò che il packaging invece vuole trasmettere ma anche il nome perché mi fa pensare ad una moto mi fa pensare appunto ad un centauro per cui cuoio tabacco tutta questa roba qui nulla di tutto questo allora questa è una creazione del 2019 abbiamo in testa il miele miele, sorbetto e mela poi nel cuore e petit grand scusate in apertura poi abbiamo un cuore di gelsomino fiore d'arancio e mughetto nulla di più distante dalle motociclette dal tabacco e dal cuoio e le note di base sono la vaniglia l'ambroxan e il patchouli allora il profumo viene paragonato a Scandal di Jean Paul Gaultier ma anche al profumo di police quello nella boccetta viola di cui vi parlai anche in un video ma nel quale io non ricordo assolutamente il nome però secondo me non somiglia né all'uno né all'altro ricorda vagamente in apertura probabilmente per la nota del miele ma diventa assolutamente dopo pochi minuti tutt'altro per cui non lo definirei assolutamente un dupe di Scandal di Jean Paul Gaultier allora abbiamo in apertura questo miele ma un miele che non ricorda assolutamente nulla di gourmand non mi fa pensare ai biscotti non mi fa pensare a nessun dolcetto perché è un miele aromatizzato ai fiori d'arancio ed è un miele fiorito è un profumo che ha un'apertura quasi balsamica probabilmente è la presenza che non c'entra niente però io lo sento leggermente balsamico abbiamo in apertura il sorbetto ma anche la mela credo che sia come nel precedente profumo una mela verde che conferisce al profumo quell'acidità che smorza un po' i toni del miele ecco perché non lo sento identico a scandal perché quello è proprio miele puro si sente proprio nell'indossarlo quella densità ci si sente quasi appiccicosi quando si indossa quel profumo questo ha proprio tutta un'altra tempra è un profumo che mette in evidenza un miele alleggerito un miele sì dolce ma molto fiorito fruttato con questa nota verde acida della mela non percepisco la parte fiorita il gelsomino il mughetto sento piuttosto il fiore d'arancio il fiore d'arancio si sente molto e predomina nel cuore è una vaniglia che non è la classica vaniglia insomma quella che ci fa pensare ai classici profumi gourmand non lo definirei assolutamente un gourmand è più un profumo ambrato un profumo fiorito che sul fondo si ammorbidisce moltissimo un fondo leggero delicato in cui secondo me prevale tantissimo la nota del fiore d'arancio quindi diventa un profumo molto leggero molto romantico iper femminile ma che può tranquillamente indossare anche un uomo e a differenza del primo di cui vi ho parlato che è uno natale questo essendo uno dei toilette ha una concentrazione secondo me maggiore e probabilmente per questo motivo dura anche di più è un profumo che su di me percepisco almeno per 5 ore e lo continuo a sentire poi durante l'arco della giornata un profumo che vi straconsiglio tra i due probabilmente quello che mi ha conquistato di più per la bontà della fragranza per la performance è sicuramente lui il tank tank nella versione custom interessante insomma per il prezzo che hanno devo dire sono dei profumi molto carini low cost che mi sento di consigliarvi tra l'altro questo è un profumo decisamente molto versatile sia per il giorno che per la sera per svariati contesti è un profumo che si sposa benissimo con un look da giorno ma perché no anche per un look un pochino più sofisticato perché il profumo è molto molto versatile per cui straconsigliato insomma per il prezzo che ha si trovano anche online quindi il video finisce qui io spero che le mie proposte low cost vi siano piaciute che le abbiate trovate quantomeno interessanti che vi abbia un po' incuriosite vi mando un salutone anche dalla pupi che sta facendo un po' di pulizia vi mando tanti baci e grazie sempre per esserci ciao alla prossima ciao ciao ciao